esce di strada con l'auto riesce a mettersi in salvo uscendo dal veicolo ma subito dopo viene investito e muore è quanto è accaduto lungo la sr 515 nel territorio di quinto di treviso la vittima un uomo di 44 anni residente a zero branco l'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato alle 3 30 circa secondo una prima ricostruzione la vittima era la guida di un opel meriva e dopo essere finito fuori strada in un fossato è sceso dall'auto una volta tornato sulla carreggiata è stato investito da un'altra vettura che stava passando in quel momento e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare sotto sciocchi il conducente dell'arreno clio che ha travolto il 44enne la polizia stadale sta valutando il possibile coinvolgimento di una terza auto che sembrerebbe essersi allontanata dopo l'incidente con l'opel meriva finita nel fossato questo è quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate e Grazie a tutti.